Il 9 marzo scorso una banda di Rom di origine croata con base a Zagarolo era stata intercettata dai carabinieri della stazione di Pergola subito dopo aver messo a segno l'ennesimo furto. La banda, composta da quattro persone per guadagnare la fuga, aveva prima speronato l'auto dei carabinieri e poi, non riuscendo a proseguire la marcia, si era data la fuga nei campi. Due venivano arrestati subito ed un terzo catturato a frontone dopo una prolungata battuta di ricerca condotta con numerosi carabinieri della compagnia di Fano, unità cinofile e la sorveglianza aerea dell'aeroclub di Fano. Era sfuggito alla cattura però l'autista che aveva lanciato il mezzo contro l'auto dei militari con i due carabinieri a bordo che, per i postumi dello speronamento, hanno subito un lungo percorso di cura e riabilitazione. Terminata la ricerca sul campo però si sono iniziate subito le attività investigative condotte dalla stazione di Pergola per individuare il quarto componente della banda e di complici che avevano permesso la sua fuga. Fondamentale per l'avvio delle indagini sono state le telecamere con i lettori targhe recentemente installati nel comune di Pergola che hanno permesso di memorizzare tutte le autovetture in transito nelle ore successive allo speronamento. Dall'analisi delle targhe ne è emersa una riconducibile ad un soggetto proveniente da Zagarolo e legato ai componenti della banda. Analisi incrociate delle celle telefoniche, ristretto alla cerchia, si è arrivati con la comparazione del DNA comparato all'autovettura con quello dei sospetti, si è arrivati all'identificazione del colpevole. Così con gli elementi in possesso il GIP del Tribunale di Pesaro ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo che però nel frattempo era scappato in Croazia abbandonando il campo Rom e anche la sua famiglia. I carabinieri della stazione di Zagarolo hanno atteso pazientemente il ritorno del ricercato ed appena hanno capito che si trovava in Italia hanno fatto irruzione nell'abitazione della moglie. Lo speronatore però si è visto scoperto e si è dato alla fuga in aperta campagna, però stavolta dopo 5 ore di prolungate ricerche è stato catturato dai carabinieri. Jovanovic Goran, 36enne senza fissa dimora, già conosciuto alle forze di polizia, dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere a Rebibbia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ora dovrà rispondere di resistenza pubblico ufficiale, furto in abitazione, rapina, danneggiamento, ricettazione e tentato omicidio.